E alle porte di Roma, la Sardegna in questo momento è divisa in due. Professore Albertini, fino a pochi giorni fa ci lamentavamo del caldo, con temperature quasi primaverili, con i mandorli e le mimose in fiore. Adesso siamo rientrati nella normalità o siamo in un altro eccesso? Nella normalità l'inverno fa freddo, quindi questi sono fenomeni che si possono verificare naturalmente. Tuttavia è difficile stabilire se questo in particolare sia stato causato, poi farò una piccola dimostrazione per far capire quali sono i problemi che si verificano a causa del surriscaldamento delle regioni polari. Questi eventi, almeno sono stati documentati quelli scorsi perché ci vuole tempo per avere la certezza, sono un po' anomali nel senso che sono più frequenti e più intensi di quanto non si verificasse normalmente. Io adoro vederla con questi giocattoli, non vedo l'ora che lei ce li spieghi, vuole darci appuntamento tra poco? Sono qua, non mi muovo. Va bene, allora, professore Albertini, i complottisti del cambiamento climatico, è tutto nella regola, anche l'escursione termica che ci ha raccontato la collega? Allora, io sono d'accordo che non tutto quanto può essere attribuito, cioè anche in assenza di fenomeni conducibili al cambiamento climatico, grandi escursioni termiche sono possibili, sono possibili gelate. Tuttavia è la frequenza e il contrasto, perché i cambiamenti climatici sono caratterizzati proprio da questo. La cifra distintiva sono gli eccessi, sono i cambiamenti estremi. E io avevo preparato questa piccola dimostrazione per capire, premesso che non si può attribuire sicuramente il, come si chiama, Anelor a questo effetto, però questo è un effetto documentato. In che cosa consiste? Allora ho portato qui mezzo mappamondo, perché? Perché qua, vedete, questo è il circolo polare artico, al di sopra del circolo polare artico c'è un vortice, che è chiamato il vortice artico d'inverno, che gira in questo modo, adesso lo faccio vedere meglio, ecco qua. Immaginiamo che questa sia una massa di aria, gira all'intorno, confinato, al di sopra del circolo polare. E solitamente è quella la sua collocazione, rimane lì fisso per motivi adesso fisici un po' complessi, e quindi evitiamo, assumiamolo. Ora, queste masse di aria fredda le possiamo esemplificare in questa maniera. Questo è un contenitore messo in corrispondenza del polo per semplicità, questa qui è la massa di aria fredda che gira nella maniera che ho appena mostrato e che rimane confinata, dicevo, al di sopra del circolo polare. Ma quando si verifica un fenomeno che adesso è documentato, un riscaldamento della stratosfera, che viene definito stratwarming, proprio riscaldamento stratosferico, possiamo immaginare che sia una bolla di aria calda, è una semplificazione, è un modello, ma solo per far capire, una bolla di aria calda che va a perturbare in questo modo il circolo polare e la circolazione di queste masse di aria fredda. Che cosa succede? Che i lobby di questa massa di aria, non potendo andare più a nord, perché siamo al circolo polare, siamo arrivati, non c'è più niente, scendono verso sud e questa qui è una maniera molto semplice di rappresentarlo, però sono proprio queste masse di aria che scendendo dal polo nord o dal circolo polare investono le nostre medie latitudini temperate. Allora, ovviamente, come diceva il colonnello Guidi, queste masse di aria fredda scendendo progressivamente si riscaldano rispetto alla temperatura che avevano originariamente, ma tuttavia sono molto più fredde rispetto alle masse di aria che insistono sulle nostre latitudini, solitamente in questo periodo dico riferendomi proprio ai mandorli in fiore chiarissimo, chiarissimo, perfetto, è stato bravissimo.